e ciao a tutti i blegottini sigla e ciao a tutti i blegottini io sono Alessio questa non è la mia solita postazione e non ho avuto una postazione si ditemi se questa postazione mi piace stasera sono solo perché siamo logistica stanno insieme a casa loro e io non avendo niente da fare vi faccio vedere i miei regali di compleanno ragazzi scusate se parlo piano è perché è tardissimo sono tipo una di notte e non posso grittare si ho fatto 17 anni i primi due regali che vi faccio vedere sono il tuo profumo della profum sono studenti come profumo il secondo profumo è il profumo della persans mi trovo il terzo profumo è arrogance blu con il regalo un altro profumo da viaggio che non supera i limiti gli aeroportuali come il profumo è vero finito mia madre mi ha comprato e riportare la maledizione dell'ereda mamma mia davanti che lo volevo solito poi ho ricevuto pure queste lupie e adesso passiamo ai bracciali con l'ane o rongi e cose varie grazie a tutti e infine abbiamo un computer con il computer un hard disk esterno di mille giga siamo giunti alla fine del video e vi volevo avvisare che nei prossimi mesi a venire ci saranno molti cambiamenti riguardo al canale perché ci siamo sciolti siamo rimasti io Simone Cessica che è per ultimo in questo canale però se volete seguire anche Angelo e Omar potete trovare Omar Akimera Rita link in descrizione e Angelo Sniper Setta link in descrizione se volete ricercatela e ciao da cartine al prossimo video